ok eccoci su eccoci su ipod ocean devo dire che apprezzo molto la la musica anche l'interfaccia grafica mi piace migliorata abbassiamo la musica star ho già provato una volta quindi di potenziamenti ok 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 la spesa while moving to dodge while standing still to back step ok all space to run hold shift to aim light attack heavy attack while aiming to shoot ok let's see vediamo quante volte muoio allora ok 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 ecco 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 di abbraccio l'errore ecco di abbraccio l'errore ecco di abbraccio l'errore ecco di abbraccio l'errore